Bene, cari studenti e cari studentesse di Quarta C, riprendiamo il discorso iniziato ieri sera su il calcolo combinatorio e in particolare ci siamo lasciati nella precedente lezione sulla definizione di combinazioni tra cui anche combinazioni semplici e abbiamo visto che le combinazioni semplici di classe K semplici di classe K, quindi C, N, K che sono tutti i modi in cui ho di estrarre K oggetti da un insieme di N senza ripetizioni, ecco il semplice in cui l'ordine non conta, ok? Questo valore abbiamo visto coincide con i coefficienti binomiali nello sviluppo del binomio di Newton abbiamo visto ieri in particolare che è possibile esprimere in forma chiusa questi coefficienti come N fattoriale fratto K fattoriale per N meno K fattoriale, ok? E quindi abbiamo visto effettivamente lo sviluppo dell'ennesima potenza del binomio quindi A più B alla N che si può scrivere come N su 0 alla N più N su 1 A alla N meno 1 per B più tutti i vari termini fino ad arrivare a N alla N meno 1 scusatemi, N su N meno 1 A alla 1 per B alla N meno 1 più l'ultimo termine N su N che è B alla N per questo ok? Quindi vedete che i termini, le potenze di A in questo sviluppo decrescono e le potenze di B invece aumentano e questi sono i coefficienti nello sviluppo va bene? Questa è più o meno la situazione che abbiamo visto ieri con alcune proprietà che abbiamo osservato per i coefficienti binomiali in particolare abbiamo visto che N su 0 è sempre uguale a N su N e sono entrambe uguali a 1 e poi abbiamo visto che per esempio N su 1 è uguale a N e non è difficile dimostrare che questo è anche uguale a N su N meno 1 infatti, questo non l'abbiamo visto ieri infatti se ci pensate N su N meno 1 altri non è che N fattoriale fratto N meno 1 fattoriale per N meno N più 1 fattoriale usando, come dire, la relazione dei coefficienti binomiali e questo è N fattoriale fratto qua sotto N meno N più 1 fa 1 fattoriale, cioè 1 e questo abbiamo già visto uguale a N quindi si nota una certa simmetria ed effettivamente esercizio per caso potete provare a dimostrare che per esempio N su 2 è uguale a N su N meno 2 laddove è possibile andare oltre il valore 2, 3, 4 quindi dipende, vi ricordate che questa relazione vale per K minore o uguale a N ok? e così via cioè potete dimostrare in termini più generali che N su K è uguale a N su K meno 2 ok? laddove questi, entrambi, questi due si possono scusatemi no, su K meno 2 scusate N meno K questo è un N meno K ok? quindi abbiamo una totale simmetria ok? nello sviluppo dei coefficienti binomiali e quindi anche delle combinazioni semplici tutto questo vi avevo anticipato ieri si può esprimere in maniera molto elegante tramite un particolare una particolare costruzione aritmetica detta triangolo di Tartaglia o di Pascal a seconda delle fonti ma insomma è una costruzione aritmetica ripeto molto molto interessante molto ricca stasera ne vediamo alcuni aspetti allora partiamo dallo sviluppo della potenza del binomio per alcuni casi semplici per esempio se prendiamo A più B alla 0 ok? questo è chiaramente 1 se facciamo A più B alla 1 questo è 1 per A più 1 per B cioè sarebbe A più B però esplicitiamo i coefficienti di tutti i termini quindi laddove ho soltanto A scriveremo 1 per A e dove ho soltanto B scriveremo 1 per B sarà chiaro tra un attimo perché espliciti in questo modo i coefficienti no? A più B al quadrato se vi ricordate è 1 per A al quadrato più 2A B doppio prodotto più 1 per B al quadrato e facciamo l'ultimo e poi cerchiamo di trovare questa costruzione A più B al cubo abbiamo già visto ieri è 1 per A al cubo più 3 volte A al quadrato B più 3 volte A B al quadrato più 1 per B al cubo questi valori che adesso vado per esempio a cercare per evidenziare sono proprio i nostri coefficienti binomiali ok? quindi questi qua sono per esempio questo è n scusate no n questo è 0 su 0 che fa appunto 1 questi due saranno 1 su 0 e 1 su 1 questi 3 saranno 1 su 0 2 scusatemi su 0 2 su 1 e 2 su 2 vedete che quando il valore che sta sopra il coefficiente binomiale rappresenta essenzialmente la potenza quindi 0 1 2 e quindi la riga in questa sorta di tabella e sotto abbiamo tutti i possibili valori da 0 fino al valore di n quindi k può prendere i valori da 0 fino al massimo n quindi quando n è uguale a 2 abbiamo tre valori quando n è uguale a 3 abbiamo che questi tre coefficienti sono 3 su 0 3 su 1 3 su 2 e 3 su 3 e così via quindi questi numeri cerchiati sono i coefficienti binomiali quindi viene in mente di costruire una sorta di albero anche se non è proprio un albero ma vedremo che è collegato comunque a una questione molto simile a quella che abbiamo già introdotto per alcuni calcoli degli alberi e quindi viene fatto di riscrivere questi numeri sotto forma di piramide in quanto la riga 0 ne ha 1 poi 2 poi 3 poi 4 quindi posso immaginare di allinearti in questo modo 1 3 3 1 e poi posso andare avanti e questo corrisponderebbe appunto da un punto di vista teorico a questo triangolo costruito usando i coefficienti binomiali quindi questo è 0 0 livello 0 il livello 1 ne ho 2 1 0 ops 1 1 ok il livello 2 ne ho 3 2 2 0 2 1 2 2 e il livello 3 per esempio ne ho 4 3 0 3 1 3 2 e 3 3 è chiaro che quest'albero può proseguire all'infinito abbiamo già visto per le proprietà dei coefficienti binomiali che ho citato ieri anzi che abbiamo dimostrato ieri che il primo e l'ultimo di questi coefficienti sulle righe sarà sempre 1 quindi anche la riga successiva avremo 1 ok e così via quindi questo triangolo ha su come dire i due lati esterni del triangolo troveremo sempre degli 1 in mezzo che cosa otteniamo se ci facciamo caso sembra esserci una sorta di regolarità cioè sembra valere la seguente regola questo 2 lo potete vedere come la somma dei due numeri che stanno sopra di lui uno a sinistra e uno a destra quindi se sommate questi due 1 ottenete 2 se sommate quest'1 e questo 2 ottenete 3 e se sommate questo 2 e questo 1 ottenete 3 ok se questa regola fosse vera allora è facile trovare la riga successiva qui dovrei avere 1 più 3 4 no sommate questi due ottenete 4 qui dovrei avere 3 più 3 6 sommate questi due e abbiamo 6 e qui dovrei avere di nuovo 4 vedete la simmetria di cui parlavamo prima per cui il primo e l'ultimo sono 1 il secondo e il penultimo sono uguali a 4 questa è la riga 4 e in questo caso il terzo è uguale al terzo perché finiscono ok quindi questo è livello 0 livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 allora se questo è vero è facile scrivere in maniera molto rapida le righe successive quindi qui avremo 5 10 10 5 allora di nuovo la simmetria vedete che il primo e l'ultimo sono uguali il secondo e il penultimo sono uguali il terzo e il terzultimo sono uguali e così via e tra l'altro il secondo e il penultimo sono uguali alla riga in cui ci troviamo come abbiamo stabilito prima questo triangolo numerico è quello che appunto si chiama triangolo di Pascal ed è molto facile andare avanti perché basta fare somme vedete senza molte difficoltà anzi senza nessuna difficoltà e ora quello che abbiamo ottenuto per esempio è il sesto livello e quindi se crediamo in questa corrispondenza tra i coefficienti binomiali e gli elementi del triangolo di Pascal o di Tartaglia disegno queste linee tratteggiate per ricordarci come trovare i singoli numeri questo livello dovrebbero essere quindi i coefficienti 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 e 6,6 ok? allora come esercizio verificate che effettivamente questi ci sono cioè che questi sono i coefficienti non ci sono scusate questi sono i coefficienti che qui ho indicato facciamone uno insieme per esempio il 6,2 che per motivi di simmetria vedete è uguale al 6,4 cioè tanto mi sposto da sinistra quanto mi sposto da destra ottengo lo stesso valore 15 verifichiamo che effettivamente il coefficiente binomiale 6,2 che è definito come 6 fattoriale fratto 2 fattoriale per 4 fattoriale sarebbe 6 meno 2 4 allora questo diventa 6 per 5 per 4 fattoriale sotto perché da 4 in poi lo chiamo 4 fattoriale così si semplifica qui abbiamo 2 per 1 e qui 4 fattoriale 4 fattoriale 4 fattoriale si semplificano il 2 col 6 si semplifica fa 3 3 per 5 15 diviso 1 15 e quindi effettivamente eccolo qua ok? provate a dimostrare che effettivamente anche questi altri corrispondono c'è un modo chiaramente un po' più sicuro per fare questa dimostrazione cioè basterebbe dimostrare che questa proprietà per cui un elemento è la somma dei due precedenti sopra a sinistra e a destra è valida qualunque sia l'elemento stesso ok? quindi proviamo per esempio a considerare l'elemento nella riga n e diciamo nella posizione k con k diverso da 0 e k diverso da n perché in questi due casi avrei 1 proviamo a dimostrare che questo lo si può vedere come l'elemento della riga precedente quindi n-1 k-1 più n-1 k questi sono i due elementi della riga precedente ok? in alto a sinistra e a destra infatti per esempio guardate questo 2-1 dovrebbe essere la somma di 1 sia a sinistra che a destra 1-0 1-1 quindi questo meno 1 è lo stesso ok? se riesco a dimostrare questa relazione qua allora ho la certezza che il triangolo di Tartaglia sia effetti con questa regola costruito in questo modo sia non solo per questi casi che abbiamo visto ma sia in generale il triangolo costruito con i coefficienti binomiali ok? allora proviamo a prendere il termine di sinistra esco a termine di destra questo è n-1 fattoriale fratto k-1 fattoriale per n-1 meno k più 1 fattoriale più n-1 fattoriale fratto k fattoriale che moltiplica n-1 meno k fattoriale ok? benissimo a questo punto beh risparliamo un pochettino la lavagna se no non ci stiamo proviamo a vedere cosa possiamo dedurre vogliamo dimostrare che questa cosa qui a destra è uguale a sinistra abbiamo n fattoriale fratto k fattoriale per k meno 1 fattoriale questo è quello che ci troviamo a sinistra quindi avendo una somma viene in mente di fare di provare a fare poi una sorta di minimo comune multiplo allora notate che qui abbiamo n-1 meno k più 1 e qui abbiamo n-1 meno k e qui invece abbiamo k-1 e qui k allora proviamo a riscrivere questi due termini in questo modo qui mettiamo n-1 fattoriale fratto qui lasciamo k-1 fattoriale e questo invece lo scriviamo come n-1 meno k più 1 che moltiplica n-1 meno k fattoriale più il secondo termine invece scriviamolo come n-1 fattoriale fratto al posto di k fattoriale scriviamo k per k meno 1 fattoriale e poi scriveremo n-1 meno k fattoriale allora voi vedete che k-1 fattoriale k-1 fattoriale n-1 meno k fattoriale n-1 meno k fattoriale sono comuni e poi abbiamo questo n-1 meno k più 1 e questo k meno 1 ok allora facciamo il minimo comune multiplo il minimo comune multiplo sarà n-1 fattoriale che moltiplica e qui manca il k quindi per k più n-1 fattoriale poi raccoglieremo che moltiplica manca questo n-1 meno k più 1 tra l'altro meno 1 più 1 scusate si poteva cancellare già da un bel pezzo ma insomma era per rendere più chiaro che questo è il successivo di n-1 meno k fratto e al denominatore ci ritroviamo k per k meno 1 fattoriale quindi questi due poi abbiamo per n-1 meno k più 1 fattoriale ok vediamo un attimo se è corretto direi di sì bene allora al numeratore siamo quasi in fondo non temiate al numeratore abbiamo n-1 fattoriale che moltiplica allora rimane k più n meno 1 meno k più 1 k meno k vanno via meno 1 più 1 vanno via e quindi rimane una n e al denominatore abbiamo k per k meno 1 fattoriale che è k fattoriale e n meno 1 meno k più 1 meno 1 più 1 va via n meno k fattoriale morale della storia al numeratore abbiamo n per n meno 1 fattoriale cioè n fattoriale e al denominatore k fattoriale n meno k fattoriale che è esattamente quello che dovevamo dimostrare ci sono anche altre strade sicuramente più rapide ma il calcolo diretto ci porta a dimostrare questa cosa qua quindi effettivamente i coefficienti binomiali sono gli elementi del triangolo di tartaglia e viceversa va bene? quindi questo ci perché tutta questa costruzione? perché tramite il triangolo di tartaglia o pascal possiamo costruire lo sviluppo di un binomio in maniera molto rapida per esempio se io volessi sapere quanto fa a più b alla quinta che è un calcolo che posso fare chiaramente facendo a più b per a più b per a più b per a più b per a più b cinque volte ma molto più rapidamente costruendo il triangolo di tartaglia fino al quinto livello che è una cosa che si fa in pochi secondi questi sono i coefficienti quindi sarà a alla quinta più cinque volte a alla quarta b vedete le potenze di a diminuiscono quelle di b aumentano più dieci volte a al cubo b al quadrato più dieci volte a al quadrato b al cubo è simmetrico più cinque volte a b alla quarta più b alla quinta e quindi troviamo lo sviluppo del binomio di qualunque potenza in modo molto rapido è chiaro che se faccio a più b alla ventisette mi ci vuole un po' più di tempo ok però è una cosa fattibile in maniera piuttosto semplice ok poi il triangolo di tartaglia ha molte altre caratteristiche interessanti per esempio se io sommo gli elementi su una diagonale per esempio se sommate questi tre elementi uno più due più tre fa sei che è due e questo vale per esempio uno più quattro più dieci quindici provare per credere uno più due più tre più quattro fa dieci ok uno più tre più sei fa dieci uno più cinque fa sei e anche dall'altra parte uno più quattro fa cinque uno più quattro più dieci fa quindici e così via cioè sommando in diagonale quando mi fermo la somma degli elementi in diagonale che ho accumulato fino a quel punto vado dalla parte opposta in cui mi sono mosso e trovo il valore di quella somma ok banalmente quindi per esempio su questa diagonale troviamo la sequenza dei numeri naturali uno due tre e quattro perché è la somma di uni uno più uno più uno tre uno più uno più uno più uno quattro e così via va bene e qui dentro troviamo un crocevia di risultati molto particolari interessanti tra cui si trova nascosta dentro il triangolo di Tartaglia la sequenza di Fibonacci vi ricordo che Fibonacci è una sequenza numerica ottenuta prendendo i primi due elementi uno e poi iniziando a sommare i due elementi precedenti quindi uno più uno fa due uno più due fa tre due più tre fa cinque tre più cinque fa sette cinque più sette fa tredici no scusatemi se c'era giusto il sette sbagliato tre più cinque fa otto cinque più otto fa tredici e così via questa è la serie di Fibonacci e la serie di Fibonacci è contenuta in maniera un po' particolare qua dentro e non vi svelo magari in una prossima lezione provate per conto vostro a come dire esplorare il triangolo di Tartaglia Pascal fino a se riuscite trovare al suo interno la serie di Fibonacci chiudiamo però vi vorrevo mostrare un altro modo per ottenere l'albero di tipo più combinatorio quindi l'albero l'abbiamo costruito prendendo lo sviluppo del binomio quindi lo sviluppo del binomio usa coefficienti appunto binomiali il fatto che i coefficienti binomiali siano proprio questi e sono le combinazioni di k oggetti presi da n senza ripetizioni e in cui l'ordine non conta questo è un fatto che andrebbe dimostrato vi mostro una non è una dimostrazione però è un suggerimento una suggestione per riottenere il triangolo di Tartaglia per via combinatorica l'idea è questa immaginate di partire da un punto e potervi muovere o a sinistra o a destra magari in diagonale a 45 gradi quindi potete andare o qui o qui e poi qualunque sia stata la vostra scelta al passo precedente potete ripetere la scelta quindi la seconda scelta ci porta qui o qui o qui attenzione vedete questo sembra un albero come quelli che abbiamo iniziato a costruire per il calcolo combinatorio però non è proprio un albero perché in realtà questi due percorsi arrivano nello stesso punto ok facciamo ancora qualche livello per esempio questo quindi potete immaginare proprio una persona che sta camminando e a ogni passo della stessa lunghezza può scegliere se fare un passo di un metro a sinistra o di un metro a destra ok e questa costruzione se va a sinistra si ritrova qui immaginate che questo sia un metro e questo sia il tempo per esempio quindi può andare a sinistra poi se ci ripensa va a destra e chiaramente torna diciamo nella posizione iniziale nell'origine e così via ora guardiamo questi nodi e vediamo partendo dalla radice di questa struttura quindi partendo da questo questa è la partenza una specie di labirinto voi sapete quanto io sia appassionato a questo tipo di strutture partendo da questo elemento chiediamoci in quanti modi posso arrivare in questo elemento uno solo c'è un solo tragitto che mi porta da qui a qui e stessa cosa in questo elemento c'è un solo modo che io posso partendo dalla partenza arrivare in questo nodo uno quindi mettiamo vicino a ciascun nodo i possibili tragitti che io posso fare senza mai tornare indietro mi raccomando perché se no sarebbe facile faccio uno due tre e arrivo qua il vincolo è che posso andare solo verso il basso muovendomi ogni passo o a sinistro o a destra quindi in questi due nodi c'è un solo modo per arrivarci in questo nodo per esempio di nuovo un solo modo cioè posso andare dalla partenza soltanto lungo una strada questa e stessa cosa per questo per questo nodo però vedo che ci sono invece due possibilità posso andare prima a sinistra e poi a destra o prima a destra e poi a sinistra quindi in questo nodo ho due possibili cammini che mi ci portano allora vedete uno 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 due uno terzo livello per arrivare a questo nodo ho un solo possibile cammino devo andare sempre a sinistra per arrivare qua questo nodo invece guardate beh posso fare o sinistra sinistra destra oppure sinistra destra sinistra oppure destra sinistra sinistra non ci sono altri modi e sono tre per simmetria posso immaginare oppure posso ricontare ce ne sono tre anche qua e qui uno e quindi vedete che sono proprio il numero di modi che ho per arrivare a un nodo muovendomi sempre verso il basso o a sinistra o a destra il numero di possibili cammini partendo dal vertice di questa costruzione corrisponde al triangolo di tartaglia facciamo l'ultimo livello qui posso arrivare in un modo solo qui in quanti modi posso arrivare beh così vi suggerisco anche una dimostrazione generale che questo è il triangolo di tartaglia posso arrivarci o facendo tutti i nodi a sinistra e poi qui quindi ho un percorso che ci arriva partendo da tutti i nodi a sinistra e poi qui oppure posso trovare in vari modi la possibilità di arrivare in questo nodo e poi salto qua sopra ok allora è chiaro che quindi diventano 3 più 1 4 se qui io avevo 3 modi per arrivare in questo vertice per arrivare in questo vertice qua ne ho 4 1 qualunque dei 3 modi per arrivare qua e poi salto al vertice considerato oppure vado sempre a sinistra e vado qua e più in generale per arrivare a un qualunque nodo il numero di modi possibile la somma per arrivare al nodo a sinistra e al nodo a destra subito sopra per arrivare a questo nodo qua ho 3 possibilità per arrivare qua e 3 possibilità per arrivare qua quindi in tutto avrò 6 possibilità per arrivare qua qui 4 e qui 1 e quindi vedete che in questo modo è facile intuire immaginare una dimostrazione generale che mi dica che questi conteggi di percorso corrispondono proprio ai coefficienti binomiali ok allora perché questo può essere interessante perché ricordatevi da cosa stavamo cercando di ottenere stavamo cercando di ottenere una corrispondenza tra i coefficienti binomiali e le combinazioni cnk ok proviamo a immaginare che quando vado a sinistra uso la lettera per esempio l per andare a sinistra e quando vado a destra uso la lettera r left and right ok allora per esempio per arrivare a questo nodo questo qui che ha 3 possibili percorsi posso fare o sinistra sinistra destra giusto l l r oppure l r l l r l oppure r l l r l l ok da cosa è caratterizzato questo questa terna sono 3 intanto sono 3 possibili percorsi se ci pensate sono tutti e sole gli anagrammi di una parola di 3 lettere e questo ricordatevi che è il livello 3 quindi questi sono gli anagrammi di una parola formata da 3 lettere prese però soltanto dall'insieme l r quindi posso formare parole solo comprese tra l r e in questo nodo particolare vedete che tutte e tre le lettere hanno una r una r ok allora se ricordate quanto abbiamo fatto quando abbiamo fatto gli anagrammi con la possibile ripetizione intanto se sono tre lettere se c'è un r automaticamente ci sono due l e allora il numero di anagrammi con queste due ripetizioni sarà 3 fattoriale che è il numero di lettere che compone la parola ma essendoci le ripetizioni sarà diviso 1 fattoriale per 2 fattoriale ok che è proprio che è proprio se guardate bene c3 2 quindi ecco la connessione ok neanche poi tanto nascosta tra le combinazioni e essenzialmente i coefficienti binomiali prendete per esempio questo 6 per arrivare a questo 6 cosa devo fare? devo fare tutti gli anagrammi delle parole che hanno una due volte l e due volte r quindi tutti gli anagrammi della parola LLRR e gli anagrammi di questa parola sono 4 fattoriale fratto 2 fattoriale per 2 fattoriale che per l'appunto se andate a rivedere gli appunti è c4 2 ok quindi con questo sistema abbiamo ritrovato nuovamente una connessione tra le combinazioni l'albero di tartaglia e quindi i coefficienti binomiali ok ultima cosa e poi vi lascio andare a dormire anche perché domenica un fatto interessante tra i tanti ok ma vi lascio a voi poi l'esplorazione di altre questioni se io sommo le righe del triangolo di tartaglia ottengo una sequenza interessante quindi provate a sommare le righe del triangolo qui abbiamo 1 qui abbiamo 2 qui abbiamo 4 qui abbiamo 1 più 3 4 più 3 più 1 4 8 dovrebbe essere chiaro cosa sta avvenendo qui abbiamo 1 più 4 più 6 più 4 più 1 e vedete che è 16 e qui abbiamo 10 più 10 20 più 10 30 32 e qua se provate vedete che viene 64 e cioè ogni riga ha come somma il doppio della precedente il che non è come dire una sorpresa visto che i valori delle righe si ottengono in modo opportuno sommando i valori delle righe precedenti ok questo doppio significa anche che questo elemento è 2 alla 0 questo è 2 alla 1 questo è 2 alla 2 2 alla 3 2 alla 4 2 alla 5 2 alla 6 quindi effettivamente la somma delle righe del triangolo di tartaglia sono le potenze di 2 potenze di 2 c'è un modo di dimostrarlo facilmente la risposta è sì ed era anche un quesito dell'esame di maturità di un 7-8 anni fa prendiamo lo sviluppo dell'ennesima riga e al posto di a e b mettiamo 1 quindi consideriamo 1 più 1 alla n usando lo sviluppo del triangolo scusatemi lo sviluppo della potenza del binomio data da newton questo sarà n su 0 che moltiplica 1 alla n più n su 1 che moltiplica 1 alla n meno 1 per 1 più n su 2 che moltiplica 1 alla n meno 2 per 1 al quadrato più tutti i vari termini in mezzo fino ad arrivare a n su n meno 1 che moltiplica 1 per 1 alla n meno 1 più l'ultimo termine n su n che moltiplica 1 alla n ora voi vedete che tutti questi numeri sono tutti pari a 1 perché sono potenze di 1 e quindi a sinistra ho 1 più 1 cioè 2 alla n e a destra ho la somma dei coefficienti binomiali n su 0 più n su 1 più n su 2 fino ad arrivare a n su n meno 1 più n su n ok? e quindi abbiamo appena dimostrato che la somma dei coefficienti binomiali che hanno n qua sopra è la potenza ennesima di 2 va bene per stasera direi che è tutto come sempre spero di essere stato sufficientemente chiaro ma se no avete l'email mi potete contattare quando volete mi auguro che stiate tutti e tutte bene come sempre e noi ci vediamo domattina a fare lezione ma faremo fisica domattina quindi per vedere questo video avete tempo fino a martedì sembra una minaccia ma non lo è è una speranza la mia una nuova speranza buonanotte a tutti e a tutte è una nuova speranza